Bentornati ragazzi, nella lezione di oggi vado ad affrontare un argomento che per molti è un po' noioso anche, ovvero quello della trascrizione musicale. Negli ultimi anni, complice anche il fatto che la mia attività live, ovviamente a causa del covid, si è notevolmente ridotta, ci sono dedicato tantissimo, tant'è che ho pubblicato diverse raccolte proprio di trascrizioni e questo mi ha aiutato non solo negli air training proprio, ma anche nella scrittura musicale, nella lettura musicale e soprattutto mi ha fatto capire quanto è importante mettere in relazione le frasi, i soldi, i feel dei grandi bassisti che esaminano, appunto in relazione all'armonia del brano a questione. Questo per capire come mai funzionano certi meccanismi, certe linee di basso, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro che secondo me ognuno dovrebbe fare, quantomeno dovrebbe dedicarci un tot di tempo quotidiano e comunque secondo le proprie disponibilità. Nel caso del walking vi faccio vedere io come mi approccio a una trascrizione, vi faccio vedere cosa utilizzo, visto che ora abbiamo la fortuna dei computer, dei programmi, quindi non bisogna metterci lì, anche se sarebbe buona cosa, però su quello sono pigro anch'io e mettersi lì a scrivere il suo spartito a mano è ancora più complicato. Quindi mi sono adattato un po' ai tempi e per fortuna ho questo bellissimo programma che si chiama Guitar Pro, io mi ci trovo da Dio, e di solito faccio in questo modo. Metto il brano, oggi prendiamo uno dei brani più importanti della storia della musica, su Walt di Miles, con la linea di basso originale, trovate poi la trascrizione completa ovviamente allegata nel pdf. La versione originale è stata registrata da un contrabbassista da paura, Paul Chambers, purtroppo scomparso molto, molto precocemente, però ho lasciato due segni in dell'early nella musica jazz e bebop dell'epoca. Di solito metto un tot di battuta, secondo la complessità del brano, è logico che se trascrivo un solo di Marcos Miller metterò una nota alla volta, nel caso magari di un working o una linea di basso più tranquilla, posso permettermi, ad esempio, di darmi un tot di quattro battute alla volta, scriverle e poi controllarle. Comunque, sentiamo un attimo. Le prime battute della linea di basso, l'intro lo tralascio, cioè il riff. Non parliamo di walking, quindi passiamo subito alla sezione, chiamiamola Billy, dove Max fa il tema con la tromba. E mettiamola, sentiamo se si sente. Per esempio, queste prime due battute, io ci sento una partenza sulla tonica, quindi rendiamo, ovviamente, nel mio ore. E' una linea discendente che a mio orecchio suona. Questa prima battuta. La vado a controllare, a risentire. Magari suonarci sola. Seconda. Cioè la terza, scusate. Mi fa la 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 Una volta che ho, diciamo, percepito a grandi linee le note e la ritmica quindi l'ottavo, ottavo ovviamente il swing le vado a scrivere a questo punto quindi prendo il mio programma ma non so come si vede da lì e inizio scrivere le note quindi re due ottavi do naturale si naturale si bemolle questa è la mia prima battuta questa è la mia prima battuta poi abbiamo detto la lo so naturale fa la e poi c'è la terza battuta che di fa è due ottavi per mi fa alzi due ottavi lado e la quarta la quinta battuta è la si può riascoltare anche se torna solo con queste quattro battute si può capire già l'intenzione l'accompagnamento di Paul Chambers che è quello di far sentire ovviamente le note dell'accordo quindi le note come abbiamo visto l'arpeggio di re minore settima che è fa la do né sui diciamo sull'uno e sul tre questo dirà una scorrevolezza molto molto diciamo fluida e musicale alla linea e da un supporto armonico oltre che ritmico fondamentale quindi infatti andiamo a vedere sul su sul battere della prima battuta abbiamo il primo quarto abbiamo due volte la tonica sul due abbiamo la settima minore nota sul tre il si naturale sul quattro una nota di passaggio si bemolle e un cromatismo che lo porta alla quinta sempre di re minore la seconda battuta uno due sol e la quarta sul tre di nuovo una nota dell'arpeggio che è fa naturale la e poi arriva sulla tonica sul due son a mi sul tre di nuovo fa quindi anzi una volta la nota dell'accordo sul quattro fa questi due ottavi per ritornare sulla tonica all'ottava superiore della battuta successiva sull'uno suona re sul due re bemolle che è una nota cromatica che lo porta al do settima minore e di nuovo si bemolle che lo porta alla della battuta successiva quindi ci sono già nelle prime quattro battute tanti elementi essenziali di questo walking e un'altra cosa fondamentale è il portamento di questi di questa linea di questo walking si sente proprio come Paul aveva lo swing ovviamente dentro quindi un conto suonarlo in un modo un conto con la giusta intenzione appunto swing questo si fa con tanta pratica tanto ascolto anche magari facendo sentire gli accenti sulle note determinate note e altre suonarle con una dinamica diversa questo è un lavoro ragazzi che io vi consiglio ripeto nuovamente per molti punti di vista che vi aiuterà innanzitutto io appunto negli ultimi anni ho velocizzato molto la scrittura musicale quindi anche la lettura questo mi ha servito anche per dei lavori e vi ripeto trascrivere in questo modo serve proprio a capire come mai questi grandi bassisti questi grandi musicisti facciano funzionare il tutto in relazione anche soprattutto all'armonia e alla scelta delle note delle scale degli arpeggi quindi è un lavoro prendetelo come un corso di aggiornamento lavorativo scherzi a parte secondo me è uno è una delle parti dello studio diciamo quotidiano che va messa a primi posti proprio anche perché poi è divertente comunque alla fine la trascrizione alla fine di aver trascritto un pezzo di un brano suonarlo e ha soddisfazione vedere che poi tutto torna che comunque ti rimane molto più facilmente in testa perché abbiamo scritto nota per nota e può essere anche un consiglio utile per accumulare un tot di trascrizioni poi fare come ho fatto io di fondle in giro o venderle se non hanno copyright o regalarle o farci quello che volete comunque il brano di oggi era so what e in genere prima di fare una trascrizione cioè prima di trascrivere la parte di basso inizio dagli accordi quindi in questo caso è molto semplice però per esempio prendiamo un all of me e prima mi tiro giù la parte armonica quindi il giro che ora non mi ricordo però sembra sia do maggiore mi la parte minore eccetera eccetera non mi ricordo bene una volta girata scritto l'armonia scritta la struttura armonica tiro giù la melodia quindi in questo caso eccetera eccetera dopo di che passo a basso insomma questo in genere è il mio metodo di trascrizione se invece volete tagliare un po' un po' più corto partite subito dalla linea di basso poi trovate gli accordi gli scrivete successivamente comunque non ho il proprio metodo non è che ce ne sia uno giusto uno sbagliato ma semplicemente quello che vi tolgo meglio per oggi è tutto quindi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando non sottovalutate questo aspetto dello studio al prossimo video grazie a tutti